Volevo dire due parole relativamente al precariato perché se ne parla molto e vorrei dire che il precariato non è un'eccezione ma è la norma al giorno d'oggi, ossia chiunque lavori nei paesi evoluti sa di poter essere licenziato la mattina o la sera, il posto fisso esiste forse in alcuni settori pubblici ma neanche in tutti, perché per esempio nei paesi anglosassoni uno può essere dismissed molto facilmente, nel settore privato il posto fisso ormai nel mondo moderno non esiste più, esiste in India diciamo, però non esiste più, quindi posso dire che il mondo è già tutto precario, certo non è precario dei tre mesi in tre mesi, però i contratti nei paesi evoluti sono scioglibili con preavvisi di tre mesi, è la norma, quindi non è che il precariato è la norma, certo questi contratti di tre mesi in tre mesi che si danno ai ragazzi sono ridicoli, però su base annuale credo che possiamo tranquillamente tollerarlo. Quello che invece mi dà fastidio in Italia, questi stegisti che lavorano per zero lire, il lavoro interinale all'estero è pagato bene, io non capisco perché l'azienda deve prendere uno stegista e non dargli neanche una lira, questo non l'ho mai capito, e questo veramente è un brutto difetto che abbiamo in Italia, quello di non dare una lira agli stegisti, perché all'estero generalmente andare a lavorare in un'impresa d'estate, compagnia, è un modo attraverso il quale i ragazzi si finanziano e quindi è un lavoro che viene ben pagato, io questo non ho mai capito come funzioni. E poi c'è anche questo terribile problema che per evitare, essendoci questa cappa del lavoro indeterminato, le imprese usano un ragazzo per un po', poi dopo per non renderlo indeterminato lo spostano, perché arrivano con dei ragazzi con tutti i curriculum pasticciati, che per cinque anni hanno fatto cinque o sei lavori, questo è veramente terribile. Io vorrei arrivare a una definizione, possibilmente vorrei arrivare proprio all'unificazione tra determinato e indeterminato, ma sembra che noi stiamo andando in un'altra direzione, per cui credo che le mie parole non siano servite a molte, non serviranno molto, per molto tempo a venire. Probabilmente arriverà qualcun altro che lo dirà in modo più limpido o la situazione ci imporrà dei cambiamenti. Io bollerei il lavoro indeterminato fisso, perché poi la gente non fa un cazzo, sa che non può essere licenziata, c'è un abuso tremendo sotto nel settore pubblico, tutto questo lassismo che c'è in Italia, dove non si fanno le cose che devono essere fatte, questa apatia, perché insomma tutti sanno che non succede niente, il non lavoro, il cattivo lavoro non viene penalizzato, ahimè, il buon lavoro non viene premiato, questa è un po' una tragedia in Italia. In teoria non dovrebbe esistere questa dicotomia precariato, perché è indeterminato, perché effettivamente i precariati li sentono degli sfigati, perché gli altri possono fare tutto, per cui c'è il lavoro precario che deve farsi un mazzo così, perché altrimenti il contratto non viene rinnovato, quindi la scrivania accanto, quelli che sono indeterminati fanno quello che vogliono per un giorno di vacanza. E questa è la cosa terribile, per cui il precariato è visto male. Se non arrivassimo a un ridimensionamento del lavoro a tempo determinato, il precariato non sarebbe più visto così negativamente come lo è adesso. Ma tanto ci penserà, ossia se non ci pensiamo noi ci penserà il mercato, però che noi probabilmente non passeremo per precariato, daremo direttamente al lavoro nero, al caporalato, come sta succedendo. Una nota interessante sul caporalato. Oggi è febbraio del 2019 e ho saputo con assoluta certezza che il caporalato già esiste qui intorno a Bologna. Si chiamano certe persone con una certa nazionalità e il giorno dopo ci si ritrova un pullman di operai che vengono lavorare in campagna e tutti i giorni gli operai cambiano per raccogliere frutta, fare cose di questo genere. Io avevo previsto anni fa, quando cominciavo a parlare di messicalizzazione in questa Italia divisa in tre, sviluppata, belle imprese, l'Italia criminale e l'Italia domestica in nero e quindi fece anche la previsione che il lavoro in nero sarebbe sviluppato in modo molto importante e sarebbe interconnesso con l'Italia moderna. Però non pensavo che sarebbe successo così rapidamente e non pensavo di trovarmi a casa praticamente. Diciamo che la realtà sta andando più velocemente di quanto io immaginassi nelle mie pur aspettative negative. immaginare che quattro anni dopo me li sarei trovati qui, io mi sono pensato ma qui sai tra i sindacati, il portato del lavoro, l'ispettorato del lavoro non è facile, no no ci sono e come sta lavorando già. E non parlo della Calabria, della Puglia, qui siamo negli intorni di Bologna, gran brutto affare. Grazie! Grazie!